Erano in Borghese mentre stavano effettuando degli accertamenti, quando una donna li ha visti e le ha invitate ad entrare, scambiandoli per clienti. Era quella una delle tre case a luci rosse scoperte dagli agenti del commissariato di Fano, diretti da Stefano Seretti, che nei giorni scorsi hanno eseguito servizi di monitoraggio del fenomeno della prostituzione. Oltre a quell'abitazione di Baia Metauro in cui risiedeva la straniera, i poliziotti hanno individuato anche altri appartamenti addibiti a luoghi di incontro e autonomamente gestiti dalle persone che li occupavano. Partendo dall'esame di alcuni annunci pubblicati sui siti online e sulle riviste, le investigazioni hanno indirizzato gli agenti nella zona di Sassonia. In due case c'erano delle stanze riservate in cui avveniva l'attività di meretricio. All'interno sono stati identificati un uomo e tre donne, dai 23 ai 50 anni, tutti sudamericani e regolari sul territorio nazionale. Su di loro verranno svolti ulteriori approfondimenti per verificare il mantenimento del permesso di soggiorno rilasciato per ben altre attività. Inoltre il personale della Polizia di Stato ha eseguito mirati controlli in alcune zone residenziali e industriali della città. Con la collaborazione dei vigili urbani all'alba sono state fatte delle verifiche in diversi casolari e capannoni artigianali abbandonati situati nelle zone di San Lazzaro, Centinarola e alla foce del fiume Arzilla. In alcuni edifici sono state rinvenute tracce di recenti insediamenti abusivi. Per questo sono stati sensibilizzati i proprietari a mettere in sicurezza gli immobili chiudendone gli accessi. Inoltre in un capannone industriale in disuso nell'area artigianale di San Lazzaro, gli agenti hanno rintracciato un quarantenne di nazionalità rumena già noto alle forze dell'ordine che in un contesto di assoluto pericolo e di precarietà igienico-sanitaria aveva ricavato un alloggio provvisorio utilizzando un letto matrimoniale, una stufa a legna, una bombola del gas e altri superlettili. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di occupazione abusiva di terreni o edifici.